Nome? Francesco, Alessandro, Kevin. Cognome? Di Pisa, Leo, Cera. Leva? 2009, 2009, 2009. Ruolo? Difensore, sinistro, destra, centrale e certe volte anche centrocampista. Attaccante, centrocampista. Centrocampista è alla destra. Quando hai iniziato a giocare e perché? Ho iniziato all'inizio del 2016 perché quasi tutta la mia famiglia giocava a calcio e anche perché mi piaceva molto. Ero piccolino, vedevo mio fratello, mio zio, due miei zii e mio nonno che giocava, allora ho detto perché non iniziare. Anch'io ho iniziato nel 2016 e io ho iniziato a giocare a calcio qua nella Superma perché c'erano molti miei amici che giocavano qua e mi hanno dovuto di venire. Poi ho fatto una prova e mi è sembrato che mi sono trovato bene e quindi mi sono giustato. Io ho iniziato a giocare nel 2017 facendo una prova grazie a Francesco che mi ha detto tutti i nomi degli altri. Con l'allenamento mi è sembrato molto bello e molto semplice e per questo sono venuto qua e perché era il mio sogno di giocare a calcio. Ecco, perché è così bello giocare alla Superba? Perché gli allenamenti sono seri ma anche scherzosi, perché quando il mister ci dice di essere seri non deve volare una mosca, invece certe volte possiamo scherzare. Invece per me è bello perché ci divertiamo e poi i mister sono seri e quindi ci fanno imparare tante cose. Perché i mister sono seri e ci divertiamo molto e è anche molto serio l'allenamento. È per capire molte cose. Parlarci un po' dei mister e di come si svolge un allenamento. L'allenamento iniziamo con la tecnica, poi i mister ci fanno fare alcuni esercizi. I mister sono tutti molto simpatici ma anche tutti molto seri. Anche ci fanno iniziare con la tecnica, fare dei palleggi, fare dei stop. I mister mi piacciono perché sono seri, ci fanno imparare delle cose e ci fanno imparare tante cose. E facciamo anche tanti schemi, tutti insieme per capire cosa fare in partita. Scuola del cuore calciatore preferito? Inter Romelu Lukaku. Juve Cristiano Ronaldo. Juve Cristiano Ronaldo. Grazie ragazzi.